Questa mattina appena letto il dato dei 60 nuovi contagi nelle Marche, mi sono messo in contatto con i dirigenti dell'ASU per avere informazioni. Sono abbastanza tranquillizzanti. Innanzitutto, quasi tutti sono di ritorno dalle vacanze. Dimostrazione di come i luoghi del divertimento, i luoghi dell'aggregazione sono quelli dove dobbiamo tenere la guardia più alta e domani nel Comitato di Sicurezza ribadiremo quest'impegno nei luoghi della Movida Pesarese. Dall'altro non ci sono focolai nella città di Pesaro, sono solo 5 i casi nella città di Pesaro, però dobbiamo tenere la guardia alta. E voglio ribadire anche le mie idee sulla scuola. Basta ipocrisie. Sulla scuola servono poche regole chiare. La mascherina obbligatoria per i bambini da 6 anni in su, bisogna che si abituano perché dovremo convivere con il virus per mesi, lavare le mani o igienizzarle prima di entrare, il termoscanner e ovviamente areggiare la classe il più possibile. Poche regole chiare per Pesaro e per l'Italia per favore perché l'apertura della scuola si avvicina.